Attimi di paura questa mattina negli uffici della manutenzione di via Tagliamento ad Arezzo dove un dipendente comunale è stato accoltellato. È successo poco prima delle 11 quando un collega della vittima, un operaio comunale di 59 anni, nonostante non fosse di turno, si è presentato negli uffici, poi pare senza motivi particolari, ha estratto un coltello ed ha colpito il 47enne geometra responsabile del servizio. Un colpo affondato tra il collo e il torace, una zona dove sono presenti arterie importanti, fortunatamente senza reciderle. A disarmare l'aggressore sarebbero stati gli altri dipendenti intervenuti dopo aver sentito le urla del ferito. Senza una ragione, è andato lì e la coltellano. Ma sono entrambi i dipendenti? Sì. C'erano state delle liti? No. Dopo il fole gesto, la fuga è la conseguente caccia all'uomo che si è conclusa un'ora e mezzo dopo quando il 59enne, che in passato era già stato coinvolto in fatti di cronaca, si è presentato dai carabinieri, è stato arrestato e adesso resta a disposizione del PM Roberto Rossi. La vittima è stata invece trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso, nonostante lo shock e le sue condizioni sarebbero stabili e non è in pericolo di vita. Sta bene, questo dovete parlare qui con i colleghi, sta bene, lo stanno ricuscendo, sta bene. Sul posto questa mattina gli uomini della Polizia di Stato, la Polizia Municipale e la scientifica che ha recuperato l'arma ed eseguito i rilievi di legge. Spetterà adesso agli inquirenti ricostruire le cause e la dinamica dell'aggressione.